buongiorno a tutti sono carmelo massimo torre direttore di musica musica espra come sapete quest'anno non abbiamo potuto organizzare il saggio di fine anno come tradizione ma come tradizione in teatro ma grazie alle lezioni online abbiamo intanto terminato il percorso pedagogico e poi ci siamo inventati questo video saggio chiedendo appunto agli allievi di produrre un video breve che rappresentasse un po in sintesi il lavoro dell'anno quindi sono fiero di presentare questo lavoro ed ecco Julian Ehrlich Julian hai fatto veramente un ottimo lavoro sia al pianoforte solista ma anche un video che presenterò in un'altra occasione per quanto riguarda la musica di insieme con il brano di pianoforte violino e flauto quindi veramente ti rinnovo i complimenti per il bel lavoro che hai svolto quest'anno ovviamente associ complimenti anche alla tua insegnante rachele de maria so che quest'anno a settembre inizierai l'università ma c'è forse la possibilità di continuare questo percorso che ci ha costretto a fare le lezioni online scoprendo però il lato positivo di questa modalità quindi di nuovo grazie per questo bel lavoro spero di rivederti a settembre seppur in modo virtuale e adesso buon ascolto grazie per la visione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.